A tutti i tazzo al mutatore, eccomi qui con un grandissimo Mino Caprio, ciao amico. Ciao, ciao, morcacchio e controcacchio, strecacchio e controcacchio ancora. Grandissimo, oggi ha... La musica di Peter Gritti, e non solo, eh. E facciamole qualche un'altra? E facciamole qualche un'altra, possiamo fare quella di Kermit, la rana, che è innamorata degli spingi. E' un mito. Io ti rinvenzo questo premio che hai preso oggi, facciamolo, mostriamolo a tutto il mondo. Il premio Vincenzo Crosciti International, grazie alla famiglia. Grande la famiglia Fiumarella. Fiumarella, ecco, che sono veramente dei grandi. E in più, oggi abbiamo un'aggiunta, la manina del salutatore. Io sono il salutatore. Ciao. E sono tutti i tuoi fan. Ciao. Ciao. E ovviamente a tutti i fan di Griffith. Eh, sicuramente. Ciao. Ciao. Grande Miro, ciao. Ciao.